Solitamente l'indifferenza è quella che definisce finita una storia, invece Ida ti vedo ancora molto arrabbiata con Diego, c'è un sentimento negativo che è sempre un sentimento. Ogni volta che parla cambi il volto. C'è stato un momento dove veramente l'ho aspettato, mi aspettavo forse delle cose adesso, uno sbaglia, può sbagliare, cioè tutti sbagliamo. Che aspettavi? Come? Dopo la discussione, dopo che te ne sei andato, forse si aspettava che tu ti facessi sentire di più tutti i giorni. No, ma non solo sentire, comunque darsi quella spunta di farsi vedere. Io venivo qua a Roma e adesso non sto dicendo che doveva venire a Brescia, però l'ho aspettato anche a casa. Ma scusate, ma la persona che chiama tutti i giorni non ti risponde. Non ti risponde, non ti risponde. Cioè è una persona che chiama tutti i giorni e non ti risponde. Non hai chiamato subito Diego, ripeto, non hai chiamato subito. La prima settimana mi hai mandato tre messaggi. Ma tu stai chiamando e stai prendendo in giro a me? Vabbè, io? Io sono sceso quattro volte qua dentro per ribadire davanti a tutti e tu mi dici ma aspettavo una telefonata a Roma. In quel momento quando è successo che hai fatto un passo indietro sono state in una settimana solo tre messaggi. Basta. È successo il passo indietro, qua fuori siamo usciti e io ti ho chiamato immediatamente in macchina e mi hai detto Diego io non ti voglio vedere, non ti voglio sentire. Ma stai scherzando. Ma se siamo stati un'ora al telefono. E ti ho detto sono qui fuori, dammi l'opportunità stasera, ti devo chiedere scusa a quattro occhi. E ti ho detto sono qui fuori, dammi l'opportunità stasera. Vabbè, io sono stati. E ti ho detto sono qui fuori, dammi l'opportunità stasera. E ti ho detto sono qui fuori, dammi l'opportunità stasera, ti ho detto scherzando. Grazie a tutti.